buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video dei bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ciao amici buongiorno eccoci qua in un altro episodio di bancomatti oggi voglio parlarvi di un'applicazione gigantesca questa applicazione ci permetterà di costruire diciamo di rafforzare la community del risparmio ora vi spiego perché vi racconto tutto bene il mio amico stefano mi parla poco tempo fa di questa favolosa app che serve a racchiudere le foto di un determinato evento per lo più sono applicazioni usate nei matrimoni nelle grigliate in eventi di festa che permettono a un utente la creazione di un album e altre persone inserendo il numero dell'album possono caricare foto in quest'album ma il bello che in ogni zona del mondo c'è questa la cosa fantastica quando stefano mi parlava di questa cosa mi si è accesa la lampadina io e io mi sono detto ma ascolta visto che più delle volte la gente non sa o magari ha difficoltà soprattutto i nuovi iscritti o anche i big nel fare la spesa per esempio cacchio quel prodotto era dentro tante volte poi non ti salvi la foto e non sai come fare con questa app spacchiamo tutto anche perché tanti prodotti in promozione certe volte non li abbiamo nemmeno mai attivisti e quindi può essere che ci sfugge ci passiamo vicino non ce ne accorgiamo come tanti prodotti del provami gratis la cosa bella è che questa app sotto ogni foto tutti gli utenti ci possono commentare come adesso vi faccio vedere in live una cosa stupenda ok prendiamo questo questo power bank con chanteclair ora vi faccio vedere appunto come funziona questa app prima di tutto la trovate sia per android tramite tramite il vostro pannello google play o per ios per gli amici che hanno l'iphone e via intanto come vedete c'è per tutte e due i canali in più potete accedere anche da portale da computer però io vi consiglio rimaniamo in app che è davvero fantastico allora adesso vi faccio vedere proprio così apro la mia app che si chiama ever snap ok mi ha già riconosciuto mi dice codice dell'album l 32 k k h cl non importa maiuscolo e minuscolo adesso comunque lo digito con voi come vedete nella live io ne ho parlato e anche nella diretta su facebook alcune persone sono già entrate e hanno inserito le loro foto e hanno messo i like ovvero c'è la nostra amica vediamo se mi dice il nome quando lo elisabetta elisabetta ha pubblicato le foto dei nuovi prodotti kellogs col prova mi gratis i nuovi cereali che abbiamo messo l'episodio qualche giorno fa fantastici perché io non sapevo manco di che colore era la copertina di questi di questi kellogs come vedete michele ha scritto elisabetta grazie per la foto c'è davvero una cosa così potete commentare potete scrivere vi invito a dare una sbirciata ora vi faccio vedere in live come si accede adesso farò l'accesso facilitato perché sono già iscritto e via però mi interessa farvi vedere questo ok entrate vi chiede il codice dell'album il codice dell'album è seguente l 32 kk hcl hcl non importa maiuscolo via clicchiamo diamo l'invio e siamo dentro adesso lui ci dice iscriviti se vuoi vedere altre foto come vedete questo sono io più michele martella eccomi qua l'album che ho creato è spese da bancomatti ogni persona cioè io l'idea che avevo in testa era questa ogni dove siete ogni dove vi trovate che tornate a casa che se vi fa piacere postate la foto ho comprato anche semplicemente le foto delle spese tanto poi le analizziamo insieme scriviamo nei commenti e via io nella live ho fatto il test con la tazza del caffè ovvero poi ho pubblicato i provami gratis e la nostra amica elisabetta se non sbaglio elisabetta ha pubblicato i vernell in offertissima su scaffale quelli del provami gratis ora io effettuerò l'accesso entro con facebook tanto ho tutto già salvato a premessa raga non è a pagamento è tutto gratis è tutto gratis come vedete questo è il mio pannello album io qua posso condividere gestire ho messo delle foto a caso e poi gli altri le hanno arricchite gli utenti ora vi faccio vedere una cosa io farò una foto a questo power bank di chantecler e metto arrivato aggiungi foto semplicemente da telefonino e clicco la macchina fotografica arrivo poi facciamo così faccio una foto prima che sono sicuro che con l'app del telefono viene meglio quindi vado nel mio pannello fotocamera facciamo così senza stare aprire l'app che è più facile voi ogni dove siete fate la foto come qualsiasi cosa ora faccio la foto a questo power bank della chantecler arrivato come premio sicuro e gratis anzi di giro di più visto che a me piace la pagina il nome la facciamo come il logo banco matti vicino eccolo ci siamo mettiamo a posto la scenografia ok vado nella mia applicazione eccolo qua loghino verde che gira proprio questo qua crea ho sbagliato devo fare il mio profilo clicco sull'album spese da banco matti non so se si vede mi metto proprio qua intanto la gente mi scrive vado sulla qua aggiungi foto vi faccio vedere così è ancora più facile lui mi dice che foto vuoi mettere mi chiede io metterò il logo banco matti che pulsa che me l'ha fatto mio amico stefano e sono contentissimo e lo seleziono poi seleziono anche la foto di chantecler con i banco matti faccio aggiungi il caricamento inizierà tra pochi secondi ci sono i cerchiolini una l'ha già caricata e logo banco matti l'ha già caricato ok aggiorno la pagina su internet cosa mi dite le tue foto sono in fase di elaborazione non importa questa l'ha già caricata che è il logo che mi ha fatto mio amico stefano metto mi piace io scrivo logo banco matti e più come vedete se poi volete potete commentare scrivere condividere via adesso sta processando un'altra foto perché è in altissima qualità fatta col telefonino vediamo se c'è la carica eccolo qua questa è la foto che ho fatto col telefono metto mi piace scrivio scrivo premio sicuro arrivato e con mio posso farlo anche da telefonino come vi dicevo prima clicco la foto io già vedo che michele ha messo mi piace ha commentato io mi trovo da qualsiasi altra parte del mondo premio sicuro arrivato e scrivo olè grazie chanteclair ho già commentato metto un pollicino faccio f5 f5 sul computer per aggiornare la pagina comunque vedete premio sicuro arrivato sotto dal telefonino commentato olè grazie chanteclair allora io penso che adesso poi qua ci sono tante altre ah ok già altri utenti della diretta hanno già scritto hanno già commentato amici date una sbirciata perché secondo me questo è uno strumento esagerato cioè davvero potete accedere in qualsiasi parte voi siate semplicemente con una foto il mio invito è buttiamo su tutte le foto che ci girano le le spese i premi siamo in giro ragazzi le uova per nigotti che non trovate da nessuna parte così zack foto bam all'iper di brembate ci sono e costano 8 euro dentro c'è il bono da 10 euro prendetele secondo me questa app qua può permetterci di stare ancora più uniti perché tante volte postare su un gruppo è complicato perché una persona deve andare su facebook o magari sotterrata da notifiche e non riesce a spulciarla bene così vi arriva la notifica sul telefonino che qualcuno vi è piaciuta la foto ha commentato può essere davvero una grande cosa vi invito ad utilizzarla e vi ripeto il codice dell'album ve lo faccio comparire qua e ve lo dico anche sotto ve lo scrivo anche sotto scusate ora la riapro il codice album è L32KKHCL volevo cambiarlo e renderlo un po' più facile ma non so come si fa però dai teniamocelo qua niente io continuerò a farvelo presente perché questa è una cosa che ci credo tantissimo e può essere davvero davvero utile guarda c'è anche la slideshow come vedete tutte le foto che girano intanto ho messo anche la foto di Cuba allora ragazzi io vi mando un saluto vi ringrazio per l'attenzione se avete trovato questo video interessante iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella non perché voglio costringervi se cliccate sulla campanella vi arriva la notifica quando andiamo in live e potete interagire via chat soprattutto perché in chat nascono tanti spunti tante segnalazioni che non si vedono poi nei commenti e seguirsele e seguirle è davvero bello vi rinnovo il saluto vi mando un cashback da Mancomatti un saluto da amichi e una buona serata provate e correte a scaricare la app perché è fenomenale ciao ciao